Pumpa, 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 Di, Do, I've got another puzzle for you. Pumpa, 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 Di, Do, If you are wise, you'll listen to me. Do, do you play when your teeth is up? Chissà come si divertivano, di Isaac Asimov. Merge lo scrisse perfino nel suo diario quella sera. Sulla pagina che portava la data, 17 maggio 2157, scrisse Oggi Tommy ha trovato un vero libro. Era un libro antichissimo. Il nonno di Margi aveva detto, una volta, che quando era bambino lui, suo nonno gli aveva detto che c'era stata un'epoca in cui tutte le storie e racconti erano stampati su carta. Si voltavano le pagine, che erano gialle e fruscianti, ed era buffissimo leggere parole che se ne stavano fermi invece di muoversi, come era previsto che facessero. Su uno schermo è logico. E poi, quando si tornava alla pagina precedente, sopra c'erano le stesse parole che loro avevano già letto la prima volta. «Mamma mia, che spreco!» disse Tommy. «Quando uno è arrivato in fondo al libro, che fa? Lo butta via, immagino. Il nostro schermo televisivo deve aver avuto un milione di libri sopra, ed è ancora buono per chissà quanti altri. Chi si sognerebbe di buttarlo via?» «Lo stesso vale per il mio», disse Margie. Aveva undici anni, lei, e non aveva visto tanti telelibri quanti ne aveva visti Tommy. Lui, di anni, ne aveva tredici. «Dove l'hai trovato?» gli domandò. «In casa», indicò lui senza guardare, perché era occupatissimo a leggere. «In solaio». «Di cosa parla?» «Di scuola». «Di scuola?» Il tono di Margie era sprezzante. «Che cosa c'è da scrivere sulla scuola? Io la scuola la odio!» Mergie aveva sempre odiato la scuola, ma ora la odiava più che mai. L'insegnante meccanico le aveva assegnato un test dopo l'altro di geografia, e lei aveva risposto sempre peggio, finché la madre aveva scosso la testa, avvilita, e aveva mandato a chiamare l'ispettore della contea. Era un omino tondo-tondo, l'ispettore, con una faccia rossa e uno scatolone di arnesi con fili e con quadranti. Aveva sorriso a Margie e le aveva offerto una mela, poi aveva smontato l'insegnante in tanti pezzi. Margie aveva sperato che poi non sapesse più come rimetterli insieme, ma lui lo sapeva, e in poco più di un'ora l'insegnante era di nuovo tutto intero, largo, nero e brutto, con un grosso schermo sul quale erano illustrate tutte le lezioni, e venivano scritte tutte le domande. Ma non era quello il peggio. La cosa che Margie odiava, soprattutto, era la fessura, dove lei doveva infilare i compiti e i testi compilati. Le toccava scriverli in un codice perforato che le avevano fatto imparare quando aveva sei anni. Il maestro meccanico calcolava i voti a una velocità spaventosa. L'ispettore aveva sorriso una volta finito il lavoro e aveva accarezzato la testa di Margie. Alla mamma aveva detto «Non è colpa della bambina, signora Jones? Secondo me il settore geografia era regolato male. Sa, sono inconvenienti che capitano a volte. L'ho rallentato. Ora è su un livello medio per maluni di dieci anni. Anzi, direi che l'andamento generale dei progressi della scolara sia piuttosto soddisfacente». E aveva fatto un'altra carezza sulla testa a Margie. Margie era delusa. Aveva sperato che si portassero via l'insegnante per ripararlo in officina. Una volta s'erano ottenuti quello di Tommy per circa un mese perché il settore storia era andato completamente a pallino. Così, disse a Tommy, ma come gli viene in mente a uno di scrivere un libro sulla scuola? Tommy la squadrò con aria di superiorità. «Ma non è una scuola come la nostra, stupida! Questo è un tipo di scuola molto antico, come l'avevano centinaia e centinaia di anni fa!» Poi aggiunse altezzosamente, pronunciando la parola con cura. «Secoli fa!» Margie era offesa. «Beh, io non so che specie di scuola avessero tutto quel tempo fa!» Per un po' continuò a sbirciare il libro, china sopra la spalla di lui e poi disse «In ogni modo, avevano un maestro?» «Certo che avevano un maestro, ma non era un maestro regolare, era un uomo!» «Un uomo!» «Ma come facevo un uomo a fare il maestro?» «Beh, spiegava le cose ai ragazzi e alle ragazze, dava da fare dei compiti a casa e faceva delle domande.» «Un uomo non è abbastanza in gamba.» «Sì che lo è! Mio papà ne sa quanto è mio maestro.» «Ma va! Un uomo non può saperne quanto un maestro.» «Ne sa quanto un maestro?» ci scommetto. Margie non era preparata a mettere in dubbio quell'affermazione. Disse «Io non ce lo vorrei un estraneo in casa mia a insegnarmi.» Tommy rise «A più non posso!» «Ma non sai proprio niente, emergi!» Gli insegnanti non vivevano in casa. Avevano un edificio speciale e tutti i ragazzi andavano là. Imparavano tutti la stessa cosa? Certo! Se avevano la stessa età. Ma la mia mamma dice che un insegnante deve essere regolato perché si adatti alla mente di uno scolaro o di una scolara e che ogni bambino deve essere iscritto in un modo diverso. Sì, però loro a quei tempi non facevano così. Se non ti va fai a meno di leggere il libro. Non ho detto che non mi va io. Si affrettò a precisare Mergi. Certo che voleva leggere di quelle buffe scuole. Non erano nemmeno a metà del libro quando la signora Jones chiamò. «Mergi, a scuola?» Mergi guardò in su. «Non ancora, mamma.» «Subito!» disse la signora Jones. «E sarà ora di scuola anche per Tommy, probabilmente.» Mergi disse a Tommy. «Posso leggere ancora un po' il libro con te? Dopo la scuola?» «Vedremo», rispose lui con non curanza. si allontenò fischiettando il vecchio libro polveroso stretto sotto il braccio. Mergi se ne andò in classe. L'aula era proprio accanto alla sua cameretta e l'insegnante meccanico, già in funzione, la stava aspettando. Era in funzione sempre alla stessa ora, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, perché la mamma diceva che le bambine imparavano meglio se imparavano orari regolari. Lo schermo era illuminato e stava dicendo «Oggi la lezione di aritmetica è sull'addizione delle frazioni proprie. Prego inserire il compito di ieri nell'apposita fessura». Mergi obbedì con un sospiro. Stava pensando alle vecchie scuole che c'erano quando il nonno di suo nonno era bambino. Ci andavano i ragazzi di tutto il vicinato, ridevano e vociavano nel cortile, sedevano insieme in classe e tornavano a casa insieme alla fine della giornata. Imparavano le stesse cose. Così potevano darsi una mano a fare i compiti e a parlare di quello che avevano da studiare. I maestri erano persone. L'insegnante meccanico stava facendo lampeggiare sullo schermo «Quando addizioniamo le frazioni un mezzo più un quarto?» Mergie stava pensando ai bambini di quei tempi e a come dovevano amare la scuola. «Chissà come si divertivano!» pensò. l'insegnante as much as an elephant eats what are you at getting terribly fat what do you think will come of that I don't like the look of it oompa loompa doompa dee da if you're not greedy you will go far you will live in happiness too likely oompa loompa doompa dee doo